Buona giornata amici, oggi è venerdì 7 ottobre 2022, sono le 7.01, questa è la rassegna stampa di Fano TV, buona giornata dunque, cominciamo subito con l'almanacco del giorno per dare inizio a questa giornata, poi vedremo che cosa i giornali questa mattina ci pongono la nostra attenzione. Vediamo che il santo del giorno non è un santo, è una ricorrenza, una festa, oggi si festeggia la Beata Vergine del Rosario, la festa ci ricorda il giorno in cui i cristiani riportarono una clamorosa vittoria contro i turchi a Lepanto nel 1571. Fu Papa Pio V che istituì questa festa intitolandola a Santa Maria della Vittoria, due anni dopo però Gregorio XIII la confermò ma ne cambiò il titolo con Santa Maria del Rosario, quindi una festa di carattere storico ma anche una grande festa di carattere religioso perché il Rosario acquista una parte importante nelle celebrazioni dei riti della Chiesa Cattolica, dunque Santa Vergine del, Beata Vergine del Rosario. E vediamo anche le previsioni del tempo L'immagine che avete visto è la immagine del santuario di Pompei proprio dedicato alla Beata Vergine del Rosario. Il tempo è un tempo clemente ancora, sarà una giornata all'insegna della stabilità con cielo sereno o a tratti affuscato da nubi alte di passaggio. Le massime giungeranno a 23 gradi, le minime a 16 gradi. I venti ispireranno sulle coste da una direzione di nord-ovest mentre nell'interno con una tensione debole da nord-est. Le temperature sono ancora in calo ma da tempo ormai si assestano sui 16, 21, 22 gradi di temperatura e questa l'escursione termine. E prima di dare un'occhiata ai giornali diamo un'occhiata invece ad una delle zone più belle di Fano, il Pincio, ovvero l'area archeologica che si estende dal bastione del Nuti all'arco di Augusto. La vediamo qui in questa immagine, no, per questioni tecniche non la vediamo più, ce la immaginiamo comunque perché questa mattina questa zona era così schiarita con una luce particolare, era la luce dell'alba con un chiaroscuro, dei colori bellissimi, ve le immaginate nella vostra mente. Allora passiamo a vedere i giornali, apriamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo subito come ieri sono state formalizzate l'inserimento, è stata formalizzata l'inserimento in giunta del nuovo assessore, si tratta di Cora Fattori che assume soprattutto le deleghe dell'ambiente e della cultura. Sono altre le deleghe, poi ve le elenco. Comunque il titolo con il quale questo articolo viene evidenziato è le mie deleghe sono un chiaro segnale dell'importanza di ambiente e cultura. Bene, si mette in evidenza sul Corriere Adriatico il collegamento che c'è tra ambiente e cultura. Cultura vuol dire anche ambiente, cioè insistere nella protezione del nostro paesaggio, della nostra terra, costituisce un chiaro segno culturale. È stata presentata ieri ufficialmente dal sindaco Cora Fattori, quale nuovo assessore alla cultura, ai beni culturali, all'ambiente, smart city, innovazione tecnologica e SIC. Il SIC è il sistema informatico comunale. Entra in giunta al posto di Fabiola Tonelli che aveva rassegnato le proprie dimissioni per intraprendere nuovi percorsi professionali. La sorpresa a dire la verità è stata proprio la cultura che fino a quel momento il sindaco aveva tenuto per sé dopo le dimissioni dell'assessore Caterina Delbianco, sempre per ragioni professionali. Caterina Delbianco gestiva lo sport e la cultura. Lo sport è stata data dopo a Barbara Brunori, la quale si assume anche altre deleghe, lo vedremo dopo, mentre il sindaco aveva trattenuto per sé la cultura. Ora sarà appunto Cora Fattori a gestirla. Vediamo a Barbara Brunori, sono stati affidati i lavori pubblici, la resilienza urbana, la mobilità sostenibile che unirà le deleghe già in possesso come quella del decoro urbano, lo sport e le nuove generazioni. Ma anche Etienne Lucarelli ha una nuova delega e si tratta di quella della partecipazione, ovvero quella che dovrebbe così valorizzare il rapporto dei cittadini con l'amministrazione comunale. E chissà che l'assessore Lucarelli non riesca entro la fine di questa tornata amministrativa, dice il Corriere Adriatico, a rendere esecutivo quel progetto di istituzione dei consigli, dei quartieri che rientra negli obiettivi della giunta di Massimo Seri. Chissà se ci riuscirà. Comunque ora si apre una nuova fase della giunta Seri, quella che dovrebbe portare a conclusione tanti progetti che sono stati impostati fino alla fine del mandato. Oggi c'è un convegno importante, inizierà alle ore 10. Si tratta di un convegno organizzato dall'ITIS Turismo nella nostra città. Si tratta di un argomento, il content marketing e media digitali, lo storytelling. Un po' questo l'argomento che viene affrontato da questo convegno, ma a margine di questa iniziativa ci sono i corsi organizzati dall'ITIS Turismo e Innovazioni Tecnologiche. Corsi che vengono così organizzati a favore dei diplomatichi e che spesso riescono a collocarli in posti lavorativi. Il 75% di coloro che hanno frequentato questi corsi poi ha trovato un lavoro. Quindi è una grande opportunità questa per molti giovani che aspirano appunto a farsi un futuro. Vediamo ancora le altre notizie sul Corriere Adriatico, quelli che riguardano Fano. Ieri c'è stata una riunione tecnica con la Regione per quanto riguarda il campo agrivoltaico che si intende realizzare a Carrara. Questo campo ovviamente non convince. ha ottenuto il parere contrario della provincia, del comune di Cartoceto, del comune di Fano. Ovviamente c'è il parere contrario nettissimo di tutti i residenti di Carrara e ora si cerca un po' di insistere perché poi la decisione finale non spetta a questi enti ma spetterà al Ministero. Ieri c'è stata una riunione tecnica in videoconferenza tra la Regione e gli studenti interessati sulla fascia colinare tra Fano e Cartoceto per la istituzione di questo impianto. Dalle prime indicazioni sull'esito del confronto risulta confermato un quadro di forte contrarietà alla realizzazione dello stesso e da parte sua la delegazione fanese ha aggiunto un ulteriore motivo di dissenso rispetto a quelli che aveva già notificato alla Regione il 30 settembre scorso. Il mega impianto fotovoltaico, hanno detto il sindaco Seri e il vice sindaco Fanesi, renderebbe più impermeabile il terreno facendo aumentare la probabilità di dilavamento della superficie in una zona molto predisposta per le frane e quindi potrebbero esserci anche dei dissesti territoriali. Dopo quanto accaduto in realtà nei giorni scorsi tra le province di Pesaro e quella di Ancona, non è certo questo il modo di scherzare con la cura e la protezione del territorio. Vediamo ancora per questo argomento un articolo che riguarda l'affluenza della corrente nei fiumi, si parla del metauro e vediamo in una fotografia come le arcate del ponte della ferrovia siano ostruite dalla vegetazione. Un cumulo di alberi, di rami, di ramaglie si è addensato sui piloni del ponte e questo costruisce una diga che ostacola l'affluenza della corrente verso la focce, la focce che è lì a due passi e se dovesse giungere un'ondata di piena, veramente questa diga potrebbe far sì che la corrente spinga l'acqua nei lati e sormontando gli argini e allagando le zone da una parte di ponte Metauro dall'altra di Metauriglia. Tronchi, rami e detriti ostruiscono lo scorrere del fiume Metauro, occorre intervenire al più presto perché poi l'autunno è capriccioso e da un giorno di sole nulla toglie che segua una giornata di intenso temporale, quindi è il caso di intervenire come è il caso di intervenire nell'Arzilla dove l'allarme è giunto, da cui l'allarme è giunto proprio nei giorni scorsi. Ed ora passiamo sulla pagina della Val Cesano, ci fermiamo a San Costanzo dove vediamo che l'amministrazione comunale ha predisposto degli aiuti alle famiglie indigenti che possono giungere anche al 100% del taglio del costo di alcuni servizi come quello dello scuolabus e della riflessione scolastica. L'amministrazione comunale ha reso noto che è possibile ottenere un esonero parziale o totale per quanto riguarda il pagamento dei servizi scuolabus e riflessione relativa all'anno scolastico in corso nel 2022 e nel 2023. Lo sconto interessa le famiglie che si trovano in difficoltà economica e che dimostrano di appartenere a determinate fasce di reddito misurabile con l'indicazione ISE. Ebbene le famiglie devono essere prima di tutto residenti nel comune di San Costanzo ed avere un reddito inferiore o uguale a 8 mila euro. Insomma questo è il limite per avere questi aiuti. Ebbene insomma è un aiuto che serve specialmente in questi giorni quanto poi il costo delle bollette assorbe buona parte degli stipendi che entrano in una famiglia. A Senigallia si cerca di ristabilire una normale vita, la vita della quotidianità. Ed ecco dunque che si riorganizzano i mercati ci sono prove di normalità. In centro viene prorogata la sosta gratuita ma tra pochi giorni torneranno i parcheggi a pagamento. In tanti ieri tra le bancarelle si aggiravano fino a martedì il ritiro del fango aperti i gazebi per gli alluvionati. Ebbene il primo atto dopo l'alluvione è un graduale ritorno alle vecchie abitudini. Da martedì prossimo nella zona rossa torna la raccolta dei rifiuti, anche questo è un indice di normalità e verranno riattivati i parcometri. Purtroppo anche questo è un indice di normalità. Una discreta affluenza intanto ha scandito la mattinata tra le bancarelle del mercato e sempre ieri sono stati aperti anche i 7 gazebo dove poter presentare i moduli per l'autonoma sistemazione e segnalare eventuali necessità dalle caritas insomma per svolgere quelle normali pratiche burocratiche che servono nella speranza così di ricevere qualche contributo, qualche aiuto sensibile. Giriamo il giornale, vediamo anche quello che il Corriere ci dice sulla pagina di Pesaro dove c'è un'attenzione che viene rivolta ai cittadini da parte dell'avvocato Bisello che è il presidente della DUSBEF che è un'associazione di consumatori. Attenzione, si parla spesso sulla stampa, sui mass media, nella televisione di super bollette. Occhio però agli inganni, si rischia il blocco delle utenze. Ci sono false promesse che girano un po' nei social, un po' nelle anche proposte telefoniche, false promesse e campagne ingannevoli e pericolose. Floro Bisello mette sull'avviso i consumatori e dice gli appelli allo sciopero dei pagamenti delle forniture di energia e le elettanti riduzioni del 20% delle tariffe sono un fenomeno allarmante del quale diffidare, dice Bisello, l'avvocato. Servono solo alle associazioni per aumentare i propri iscritti, ma alla fine arrivano immancabilmente i solleciti e si rischia il blocco delle forniture con il distacco dei contatori. E quindi poi ci vogliono altri soldi per riattivare le utenze. Figuriamoci, dice Bisello, se le società di erogazioni di servizi essenziali stanno ad aspettare. Quindi attenzione ad abboccare su certi sconti esagerati oppure agli inviti di scioperare oppure di non pagare. Attenzione perché veramente si rischiano guai peggiori e quindi bisogna usare molta molta prudenza. Vediamo anche le altre notizie che pubblica il Corriere Adriatico ed è questa una bella notizia perché in occasione delle giornate del FAI del 15-16 ottobre prossimo Palazzo Perticari aprirà le sue porte per la prima volta alla città e lo farà dopo il grande restauro che signoretti, Franco Signoretti, il patron di San Italia, ha realizzato così per fare un dono veramente gradito alla città. Sarà visitabile per la prima volta nelle giornate FAI d'autunno. L'apertura ufficiale sarà spostata, ancora c'è ancora molto da fare, nel 2024. Quindi ci vorrà ancora tutto il prossimo anno per terminare questo importante restauro. Palazzo Perticari era ridotto veramente in condizioni miserevoli per quanto riguarda il degrado, ora invece viene riportato al suo antico splendore. Ebbene uno dei palazzi più importanti della storia pesarese, soprattutto per la famiglia che lo ha realizzato e che lo ha abitato. Giulio Perticari è una icona della cultura pesarese. Ex consorzio contro il comune, la Nova Portum fa ricorso al Tar. Ebbene fa ricorso per quanto riguarda la necessità di realizzare due palazzine nell'area di risulta dell'ex consorzio. Il progetto nell'area portuale è stato bloccato nel febbraio del 2021 con l'inchiesta per abuso edilizio. Ed ora è la società Nova Portum, società di scopo nata per appunto la realizzazione di due palazzine nell'area un tempo occupata dal vecchio consorzio, ha presentato un ricorso al Tar delle Marche. Insomma, a meno si vuole accelerare per la definizione di questa storia, di questa causa che è finita nel cassetto. Contro lo scempio selvaggio riprendiamoci il Miralfiore ed è una protesta delle associazioni ambientaliste. Tagli al Miralfiore, ora basta. Dopo le 800 firme raccolte domenica, tutti ora al sit-in di protesta che verrà organizzato domenica prossima. La raccolta delle firme era stata sospesa dopo l'apertura al dialogo del Comune, ma i successivi interventi hanno cambiato tutto. Vi ricordate quando il Comune ha rasato tutti i campi dove erano coltivati, dove nascevano delle qualità floristiche veramente anche esotiche, erano belle, rare, particolari. È stata fatta Piazza Pulita, è stato uno degli interventi più contestati dagli ambientalisti ed ora c'è questa reazione. Vediamo anche la pagina di Urbino, qui purtroppo dobbiamo evidenziare ancora una volta un lutto per un incidente stradale. È deceduta una mamma, una mamma di 51 anni, quindi ancora molto molto giovane. Era in sella ad una moto e è andata a scontrarsi contro un'auto, in un rettilineo lungo la Metaurense, tra le contrade di Cala Agostina e di San Silvestro. Ieri era una bella giornata di sole, probabilmente un sorpasso fatale, incentivato anche dalla strada in cui si poteva tranquillamente transitare, la bella giornata di sole, però tutto si è concluso con una tragedia. È morta così una mamma di 51 anni che era in sella, la sua KTM 390, che ha impattato con il fianco sinistro di una utilitaria, probabilmente nel corso di una svolta a sinistra. L'utilitaria la precedeva, la moto è volata in un campo ed è piombata sull'asfalto, facendo sì che la signora che la cavalcava perdesse la vita. Erano circa le 15 di ieri pomeriggio. E qui vediamo nella fotografia la vittima di questo incidente e la motocicletta che viene caricata sul mezzo, che poi lo ha rimossa dalla strada. E a questo punto possiamo tranquillamente passare al resto del Carlino, dove si parla ancora della presentazione di Corra Fattori alla stampa avvenuta ieri nella sala della Giunta, contestualmente ad un appello che il sindaco Massimo Seri ha lanciato alle istituzioni per quanto riguarda i costi che il Comune si accinge a pagare per l'aumento delle bollette. Sì, non solo le famiglie, non solo le associazioni, non solo i commercianti, gli artigiani, gli industriali, ma anche il Comune è in difficoltà. Caro bollette, Seri lancia l'allarme. Tra le possibilità c'è già l'annunciato spegnimento della illuminazione pubblica e la riduzione di un grado delle temperature negli uffici. Per avere un'idea della dimensione di quello che spetta al Comune, da qui al 31 dicembre, e poi anche nel 2023 vediamo alcune cifre. Fino a dicembre 2022 è stato calcolato che l'aumento dei costi della pubblica illuminazione sarà di 1.436.000 euro, a cui andranno aggiunti i maggiori costi di luce e gas per gli edifici comunali, per un totale di 1.635.000 euro. Il totale dell'anno è di circa 3.071.000 euro. Insomma, tra illuminazione e poi luce negli edifici pubblici si arriva a 3.000.000, quindi una cifra importante. Per il 2023 la situazione è ancora peggiore. Gli aumenti salirebbero a 8.030.000 euro, divisi tra 4.530.000 euro per la pubblica illuminazione e 3.500.000 euro per gas e luce negli edifici comunali e nelle scuole. È impensabile, ha detto Massimo Seri, ricorrere ad un aumento delle tasse e se non c'è dunque lo Stato, il Governo, che possa giungere in aiuto alle istituzioni, ai comuni, la situazione si fa veramente molto molto critica. Campo agrivoltaico, a Guzzi ci opporremo. Lo ha detto anche l'assessore regionale Stefano Aguzzi nell'incontro che si è svolto ieri pomeriggio tra Fano, Cartoceto e Ancona, la regione Marche. L'assessore all'ambiente ha detto purtroppo però i pareri di regione e comuni non sono vincolante. Quello che si vorrebbe fare è un danno irreparabile per le colline, un danno paesaggistico, un danno ambientale ma anche un danno agricolo perché si sottrarrebbero all'agricoltura nonostante che il progetto prevede la possibilità di coltivare i campi al di sotto dei pannelli fotovoltaici, un danno irreparabile alle coltivazioni dei campi. Seri e fanesi ci sono altri spazi più congeniali che possono accogliere i pannelli ma non quelli del versante collinare che guarda la frazione di Carrara. E intanto sul biodigestore tre sindaci si pongono all'attacco. Per il presidente della provincia ci sono figli e figliastri. Ebbene la sensazione è che non tutti i comuni e di conseguenza i rispettivi cittadini abbiano la stessa importanza. E questo un po' l'affondo dei sindaci di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli, di Mondavio, Mirko Zenobi e di Frate Rosa, Alessandro Valtroni che rilevano come ci sia stata l'applicazione di due pesi e di due misure nell'adottare la questione del biodigestore di barchi e quella recentissima dell'agrifotovoltaico trafano e cartoceto. Insomma là c'è stato del permissivismo e qua invece una risoluzione del tutto contraria. Invece le due cose hanno per riferimento lo stesso rispetto ambientale. Così appunto affermano i tre sindaci dell'entroterra. A Orciano da domani attiva la potes del 118. La sede è stata messa a disposizione del comune di Terre Roveresche. Il sindaco Sebastianelli esprime la sua soddisfazione. l'area vasta operatività strategica in questo territorio. Ebbene la potes sarà attivata a Dorciano in via Fornace nel centro salute Carlo Amodio ed è dotata di un'ambulanza di soccorso avanzato con equipaggio di tipo MSI ovvero mezzo di soccorso con a bordo un autista soccorritore ed un infermiere. E poi gli equipaggi svolgeranno gli interventi di soccorso territoriale secondo le indicazioni della centrale operativa del 118 di Pesaro. Quindi veramente un sussidio di carattere sanitario importante non solo per Orciano ma per diverse popolazioni dell'entroterra. A San Costanzo invece 250 mila euro si investano per valorizzare il teatro La Concordia, uno dei teatri più belli delle marche. Sarà presto quest'ultimo un'eccellenza anche dal punto di vista del risparmio dell'energia. Infatti è in corso la progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione e li hanno annunciati il sindaco Filippo Sorcinelli e l'assessore alla cultura Anna Maria Sabatini. Nello specifico si andrà a sostituire il generatore di calore, si realizzerà un impianto radiante a pavimento nella platea e si cambierà la termoventilazione a servizio della platea dei palchi e del loggione. Insomma sono veramente interventi strutturali di carattere tecnologico che renderanno più confortevole l'ambiente all'interno del teatro. E siamo in conclusione, mi rimane da segnalarvi come a Pergola verranno asfaltati in centro le strade per 95 mila euro, interventi di straordinaria manutenzione in alcune strade della città. E veramente per concludere due notizie di sport. Una riguarda la Vis, lavare in campionato l'onta della Coppa Italia, la sconfitta per 6 a 0, brucia ovviamente nelle intenzioni, nei progetti dei bianco-rossi. E per quanto riguarda il Granata invece l'Alma, Fano la città ci segua. Ci sono pochi tifosi allo stadio, solo 100 gli abbonati e questa volta il Fano Calcio merita qualcosa di più. Ed è tutto per il momento. Io vi ricordo che la rassegna stampa ci risarà ancora domani alle 7 e per le notizie del giorno vi invito a guardare il TG di Fano TV, occhio alla notizia, questa sera alle ore 20 e 30. E questo è tutto, vi auguro ancora buona giornata.